Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 3 della Costituzione italiana Noi, giovani del Movimento di ACMOS, abbiamo a cuore le sorti della nostra forma repubblicana, alternativa alla delega e alla sottitanza monarchica, figlia del suffiaggio universale come emblema del diritto alla partecipazione di ciascuno. La povertà di futuro, questione che abbiamo lungamente approfondito quest'anno, si esplicita principalmente nell'impossibilità di difendere alcuni fondamentali diritti, come quello alla casa, al lavoro, all'istruzione. La festa della Repubblica è la festa di ogni cittadino sovrano, ma sappiamo che per esercitare fino in fondo la propria quota di sovranità sia fondamentale essere liberi dal bisogno. Se la Repubblica è l'insieme di tutti i cittadini sovrani e se la povertà è il risultato dei comportamenti umani, siamo convinti che sia responsabilità di ognuno, quota parte, liberare da ogni impedimento la via verso il futuro. Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma la vogliamo percorrere chiedendoci costantemente come giocarci la nostra parte. Buona festa della Repubblica a tutte e a tutti!